Questo sembra un pezzo imponente, ma in realtà la ciccia non è tantissima. La coda la mangia lei? La mangio io, però il baglino se lo mette lui. Sta perfetta. E vorrei anche dei tovaglioli, perché poi... Ok ragazzi, adesso lo assaggio con un pezzettino di pecora. No, no! Magari quando hai finito di fare la turista andiamo a mangiare, che dici? E vabbè, non sono mai stata a Mentana. Mai stata a Mentana? No, e quindi mi stavo un po' curiosando, sono sti piccoli che sono carinissimi. Come sei rocker oggi, lo sai? Sei molto rocker. Sì, sto aggressive. Sono molto aggressive. Grigliatori in trattoria, siamo a Mentana. Mentana è una piccola cittadina alle porte di Roma. In tanti ci avete segnalato trattoria da Garibaldi. Paola ha supervisionato il menù e ha deciso che poteva essere una tappa interessante. Esatto. Antica trattoria Garibaldi, Mentana, aperto. Come ci siamo seduti, è arrivata la cameriera e ci ha detto, vino bianco rosso, rosso, fatto. Acqua naturale frizzante, frizzante, fatto. E ci ha messo subito il cestino del pane. E no, 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 ragazzi, non inizia affatto bene. Iniziamo male, Paola, molto male, tesoro mio. Molto, molto male, perché tu hai il vino e io ho l'acqua. Chi ti ha autorizzato a mettermi l'acqua? Ma ci facciamo male? Io personalmente proporrei che come antipasto ci facciamo un assaggio di trip e coratella. E beh, sì. E ci sta tutta. Primo, io sono combattuta, amiche. Tra cosa? E guarda qua che ci sta. Allora, i gnocchi con ragù di pecora, secondo me, si devono pigliare. Poi ci sta il regatone con la pagliata, la fettuccina ignorante di cinghiale. Stiamo a tre primi. E poi ci stanno pure le lasagne. Sono matta per le lasagne, ma come facciamo? Come antipasto potremmo partire con un assaggio di coratella e trippa? Poi ci dobbiamo fare due primi e due secondi. Si può fare? Questo è trippa. Stavo vedendo, cercando di affondare il cucchiaio per capire le varie tipologie di trippa che ci stanno, perché sappiamo che la trippa, avendo l'animale e tanti stomaci, volevo vedere quanti ce n'erano. L'ambredotto non ci sta sicuro. Ci stanno tutti quanti gli altri. Ok? Questo pure è molto buono. Che dicevi della coratella? Già si è partita così. Non mi hai manco aspettato. Ma io c'ho fame, c***o. No, ma io dico, c'ho fame. La coratella, a me piace tantissimo. Loro la fanno in bianco. Generalmente si fa così. E qua stiamo parlando dell'interiore dell'agnello. Ok? Quindi coratella sentiamo di questo. Di solito viene fatta così in umido, con un po' di cipolletta. Sentiamo, Michè. Senti qua. Dall'odore non credo che sia molto violento. Io ci vado giù pesante, ragazzi. Metti, metti, vai. Carica, carica, Paola. Carica, carica, vai. No, lo sento soft. Ok, vai, su. Ok, vediamo se mi sento male. Lo faccio. Questi sono soft. Lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio. L'ha fatto. Ho capito. Ma soft, c***o, scusa. Vabbè, ma tu l'hai risucchiato, grazie. Dai. Ok, i pompieri è la prossima volta. La trippa safa, raga. Come, come, come? Safa. Anzi, non safa, safaissimo. Nel meraviglioso vocabolario di Paola, safa vuol dire molto buono. Safaissimo vuol dire tanta roba. No, la formaggera, ragazzi. La formaggera. L'ultima volta che ho visto la formaggera così, c'era la lira. Dai, va, carica, Paola, carica, va. Te sei romano, quindi non ci piace il pecorino, no? Carica, va. Se mangia prima la trippa o prima la coratella? Mangiate prima la coratella. Cambio. Sì, questa è la coratella cotta per vino bianco, no? Sì, con la cipolletta. Io che farei pure colazione con la coratella. Ma ce ne avessi il peperoncino. Trippa col pecorino, ragazzi. Sai qual è il problema della trippa, ragazzi? Che ce l'hanno sempre raccontata male. E poi paga la trippa il fatto di essere un po' gelatinosa in bocca, no? Quindi gli schizzinosi guardano la trippa e fanno, la trippa non mi piace. La trippa è buona, regà. Già dall'antipasto è partito il primo mortacci quanto è buono. Ma vogliamo ordinare il primo? Sì, sì. Dopo una lunga disquisizione, ragazzi, durata circa 7-8 minuti, abbiamo scelto cosa ordinare. Ho preso lo gnocco al sugo di pecora. Io immagino che tu stamattina, mentre facevi colazione con il caffè e i biscottini, tu pensavi allo gnocco, al ragù e al sugo di pecora. No, 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 io volevo prenderlo. Ok. Poi l'altro te lo l'ho lasciato a te, ovviamente. Perché per la prima volta sul canale, ragazzi, arrivano i rigatoni con la paillata. Se non sapete cos'è la paillata, la paillata sono gli intestini dell'agnello. L'agnello è l'ovino giovane, la pecorella giovane qui nel Lazio. Attenzione, si è tolta il chiodo, si inizia a fare sul serio. Sì, è riscaldamento. Adesso, ah, bisogna sta comodi, no? Sono arrivati gli gnocchi, sbaggete. Che Paola, come vedete, arricchisce subito con un'abbondante cucchiaiata di pecorino. Già lo gnocco mi piace, si vede che lo fanno loro. No, ragà. Questo, safa. Una safa, safaissimo. Paola ha appena promosso lo gnocco e adesso ci spiega da cosa. Secondo lei si evince il fatto che siano gnocchi fatti a mestiere, casalinghi, fatti, come si dice in gergo, in casa. E quindi benvenuti a questa lezio magistralis sullo gnocco. E si capisce che questo lo fanno loro. Io già l'ho assaggiato, quindi già la consistenza ti fa capire questa cosa. Queste io li metto qua, lo vedi? Guarda. Lo vedi che sono tutti diversi? Ma lo vedi che l'hanno fatti stamattina, secondo me? Lo vedi? Ma poi la consistenza. Guarda qua, sono tutti quanti diversi questi. Questo è lo gnocco. E poi appena l'assaggi lo senti che è fresco, no? Lo senti che non è un gnocco con gelato, non un gnocco messo sotto vuoto, non un gnocco con il conservante. E per la serie Benvenuti nel mondo delle battute cringe e tendenti al boomer, questo è lo gnocco e questa è una gnocca. Ma tu culo. Grazie, grazie. Ok ragazzi, adesso lo assaggio con un pezzettino di pecora. No, no. Cambio. Olè. Paiata a me. Cerchiamo, ragazzi, la pagliata. Vediamo un po', là ce n'è un pezzetto. Questa è una pagliata a prima vista un po' imborghesita, cioè non è proprio ignorante, 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 perché la pagliata per definizione antropologica deve essere ignorante. Ho detto antropologica. Non è una parolaccia, ragazzi, ve lo posso assicurare. Ho detto antropologica. Scusate, non lo dico più. E che si sappia che il tavolo numero 5 non si fa parlare dietro, perché è arrivato un secondo mezzo litro per la felicità di Paola. Dobbiamo fare altre due portate, ci serve, insomma. E beh, sis, come fai? Un po' un'acqua, no? Notare? Cioè noi l'acqua per sport la prendiamo praticamente. Buonissimo. Non si gioca con il cibo, non si gioca con il cibo, però volevo farvi vedere una cosa, ragazzi, che io amo fare a casa quando per cavoli mie mi faccio la pagliata. Allora, vedete questo? Questo è l'intestino dell'agnellino. È proprio l'intestino, eh, ragazzi? Eccolo qua. Ha un sapore soft, delicato. Se non vi piace è perché o ve l'hanno cucinato male o ve l'hanno spiegato peggio. In realtà è buonissimo. Io vi suggerisco di provarlo. Io metto di solito, io a casa me la faccio molto più carica, eh. Qui, diciamo, è una pagliata da trattoria che giustamente deve compensare costi, materie prima. Quindi loro, diciamo, non ne mettono tanto, 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 tanto di intestino. Però io mi sono, come si dice a Roma, capato, ovvero sia selezionato dal sughetto tutta la pagliata e ora faccio un mega rigatone come dico io. Dai. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Piglio un rigatone e me lo magno tutto. Mortacci quanto è buono. Noi siamo a Braceme ancora, quindi te, giustamente, io ho chiesto la coda alla vaccinata, te mai chiesto la bistecca? Noi, ti mezzo è l'ora che aspettiamo. Supponendo che la coda già è pronta, secondo me è andata in merda. Questi sono trattoretti, ma per me la bistecca forse la prendono in pochi? ma ce l'hanno nel menù? Oppure hanno sgamato che la bistecca va a Braceme ancora e stanno in ansia. È arrivata la bistecca. Questa è coda. La coda la mangia lei? La mangio io, però il bavaglino se lo mette lui. Sta perfetta. E vorrei anche dei tovaglioli perché poi io tendo a mangiare anche con le mani. Grazie. Ah, vedi, questa è bella, vedi, mi ha messo pure l'osso, vedi? ci piace, ci piace, ci piace. Madonna, però questa è fatta a mestiere. Guarda, la vuoi guardare bene? Sì, sì. Lo vedi? Questa è la cartilla madonna, questa è buonissima, questa io vado di mano. Alla coda, che se te la pigli puoi andare forchetta e coltello, sì, all'inizio lo puoi fare, ma poi devi andare di mano e di scarpetta. E la ricetta è classica, fatta con una base di sedano, carota e cipolla in maniera lieve. Poi c'è questa coda che deve essere cotta molto tempo, ci va della passata di pomodoro, io personalmente metto anche il cacao alla fine, una puntina di cacao, più però non credo che ci sia. Ora devo assaggiare, vediamo, c'è la pulita in bocca. Sta coda, sta coda, sta coda è mondiale. E magna, e magna. Una donna. Cioè, guarda qua. Sta coda fa paura, devo dire, tra tutto quello che ho mangiato, sicuramente è piatto migliore. morbida, succosa. Vabbè, poi la coda la dovete mangiare per capire il sapore. Cioè, è lei. Poi è cotta alla perfezione, buona, buona, buona. Ed è, c'è il sapore proprio di tradizione. Beh, tenera, 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 tenera. Saffa, saffa, saffaissima. Avete per caso fatto un esame di anatomia di una mucca? Se non l'avete fatto vi faccio un breve riassunto. Ecco la coda della mucca. Queste sono tutte ossette. Eccolo. Tutte ossette. Questa era la lezione sulla forza di gravità, la facciamo un'altra volta. Questa è la lezione sull'anatomia. La coda è composta da tante ossette così che si attaccano. Loro prendono questo e te mangi la ciccetta che sta intorno. Questo sembra un pezzo imponente ma in realtà la ciccia non è tantissima. Ah, lo volevi vedere? Certo. Beh, pure in questa coda alberga un mortacci quanto è buono. Tiè. Si azzeccano le dita? Poi poi riprende in questi momenti. E qui è quando si dice che hai l'attaccamento a un posto. No, l'attaccamento che c'è prima di asciugare le mani. Questo è attaccamento al posto. Per 15 euro ragazzi qui ti arriva questa bistecca, ok? Il limone nelle trattorie ce sta e noi ce lo mettiamo. Non pago, ci metto anche un po' di olietto al peperoncino. Spessore della fettina, livello di cottura non richiesto ma ci hanno pure ragione. A te possono chiedere il livello della cottura di una bistecchina del genere. 15 euro dell'ottima proteina animale al sapore di limone. Diciamo che il braccio mi ha ancora ha mangiato cose un pochino più elaborate però vabbè in trattoria se ne fa manna bene. È arrivata la puntarella ragazzi perché questa sgrassano. Dopo gnocca la pecora, trippa, coratella, faiata e a bistecca la mettiamo a conto e ci serve la puntarella. Vado? Ragazzi, non ve l'ho mai detto ma io sono cintura nera di puntarella e adesso seguitemi. Lo spiegone sulla puntarella secondo me. Per ogni dieci puntarelle ci deve essere una licetta. In questo caso c'è notare il mestiere che ha spento la cucina a sminzare l'alicetta. Ok? Così con quattro alicette ragazzi loro ma pure un po' di meno qui ce ne saranno due con due alicette ragazzi ti fanno la puntarella. Poi ci deve stare un'agricola di aglio aceto olio e deve essere fresca. Puntarella promossa. E mentre io pulisco l'obiettivo e la camera dell'iPhone Paola onora la puntarella. Buonissime. Dimmi che hai posto per un dolce. No, in fondo ho mangiato niente. Dai, un dolce. C'è posto? Cucchiaino. Yuhu! Com'è che fai? Yuhu! Posso scegliere io? Sì, sì. Voi? Passata fortunatamente quella moda che prevedeva che ti portassero il tiramisù dentro la caffettiera che te lo smontano che te lo rimontano che tu ce lo devi giocare che se io volevo giocare monta smonta ragazzi via collego il tiramisù così deve essere. Al massimo ragazzi vi passo il fatto che me lo mettete dentro una coppetta mi piace guarda sono cintura nera sia di puntarelle sia di tiramisù e lo so da romano questo è mortacci quanto è buono hai visto che è buono? Sto tiramisù sa fa sa faissimo mortacci quanto è buono questo questo tiramisù c'ha la cremina pornografica guarda te la faccio vedere questa qui questa è la cremina pornografica del tiramisù ragazzi se c'è questo c'è tutto la tradizione di questo format vuole che se è una cosa molto 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 buona io lecco il piatto io stava schietta ad Oripoli ma col dito che non sarà come leccare il piatto ma gli assomiglia molto e ricordate quando leccate il piatto e o la tazzina come in questo caso state onorando lo chef o in questo caso il pasticcere che ci ha preparato questa delizia abbiamo speso 50 euro ma attenzione non era il prezzo finale che cosa è successo durante il pranzo un signore che stava al tavolo a fianco ci ha riconosciuto e è andato e è andato dal proprietario e come dice Paola ci si è cantato e braciami ancora e braciami ancora da quel momento in poi il rapporto tra i sottoscritti e i ristoratori è cambiato radicalmente e al momento del conto ci ha fatto pagare 50 euro ma ci siamo venuti pure il signor Francesco che è il proprietario però secondo me ci ha fatto uno sconto ci ha fatto uno sconto disumano disumano avremmo pagato noi se no secondo me un'ottantina di euro ci stavano personalissimo parere tornerei qui perché mi è piaciuto molto gli gnocchi mi sono piaciuti promossi la coda la vaccinaria mi è piaciuta promossa mi è piaciuta avere la puntarella buona fatta a mestiere e il tiro di misura strepitoso ok quello che non riprenderei la pagliata la pagliata la ricadone con la pagliata quello no però io dico una cosa io prima la coda la mangiavo solo a Roma e ora la mangierai pure a mentale no dico che questo posto merita un viaggio per la coda la vaccinata merita raga merita veramente eppure lo gnocco col sugo di pecora buono pure quello vabbè direi che quindi la trattoria Garibaldi promossa il menù ve l'abbiamo fatto vedere i prezzi ve l'abbiamo fatto vedere hai visto c'è fatto caso c'era la correzione c'era 9 stampato e poi 10 poi non si capiva se era 10 o 19 ma era 10 no no era 10 ma te lo dico io sai quando è venuta quella roba è venuta prima della guerra era 9 euro poi Putin ha fatto quel casino hanno messo 10 euro vabbè ci sta insomma comunque io adesso ti propongo che te fai come te pare mi vado a fare una bella camminata per smaltire un po' perché sta città è carinissima io non c'ero mai stata guarda qua che bello che bello che bello io vado a cuore lo schio facciamogli vedere dove stiamo ciao Paola ci vediamo Paola è andata ragazzi segnalatemi altre trattorie in giro per i paesini d'Italia noi ci appuntiamo e poi vi veniamo a trovare e con i panni stesi dietro di me vi saluto un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi ciao ciao